Lancia una nuova sfida, nel 2015 vorrebbe essere a Vinitaly con mille aziende, ma non dimentica, anzi sottolinea, l'amore per il luogo in cui la sua passione e la voglia di fare nel mondo del vino è nata, Montalcino. E' Gelasio Caetani Lovatelli d'Aragona, il nobile globetrotter dell'universo enoico, già produttore di Brunello di Montalcino in passato, che ha dato vita ad una rete nazionale di piccole e medie imprese da lanciare sul mercato internazionale, che, proprio durante l'ultima edizione di Vinitaly, ha aperto le porte anche al cibo. Nonostante tutte le regioni italiane diventano sempre più le protagoniste del mondo del vino, ma come antico, una volta produttore di Brunello, non può che farmi piacere di vedere che il Brunello di Montalcino, il territorio di Montalcino, rimangono il grande protagonista del vino italiano. Tantissimi americani, cinesi, inglesi hanno riempito gli stand del Brunello. Devo ancora ora ringraziare un solo uomo, una sola famiglia, che è la famiglia Biondi Santi. Io dico sempre che se non ci fossero stati i Biondi Santi a Montalcino, oggi questo meraviglioso paese che è Montalcino sarebbe tuttavia rimasto uno dei migliaia di meravigliosi paesini della Toscana, mentre oggi è il più importante paese del vino, non solo italiano, ma del mondo.